La Regione siciliana, spiega l'assessore Vittoria con propria emanazione, ha dato ai comuni facoltà di avvalersi della collaborazione di ispettori ambientali volontari idoneamente formati per il controllo del servizio di raccolta differenziata e dei fenomeni di abbandono dei rifiuti al fine di assicurare la tutela ambientale e il corretto conferimento dei rifiuti. Il regolamento per l'attivazione di queste figure è stato votato già nell'aprile del 2018 dal Consiglio Comunale ed ora diventa una realtà a Comiso. Proseguendo nell'attività finalizzata alla salvaguardia dell'ambiente continuo a Biaggio Vittoria, si dà avvio al primo corso di formazione per ispettore ambientale, una figura impegnata nella lotta ai comportamenti illegali di abbandono dei rifiuti, nella vigilanza ambientale, nel fornire maggiore informazione alla cittadinanza sulla raccolta differenziata e sul corretto modo di smaltire i rifiuti. Un lavoro continuo per tenere alta l'attenzione della cittadinanza sulle problematiche ambientali che interessano il nostro territorio. Così facendosi permetterà a chi voglia impegnarsi per l'ambiente di partecipare al progetto della differenziata e ai vantaggi che tutto ciò porta all'intera comunità. Già da oggi, conclude l'assessore all'ambiente, è possibile scaricare dal sito del Comune l'avviso pubblico e la domanda di partecipazione. Tutti i dettagli e i requisiti per poter presentare la domanda sono elencati all'interno dell'avviso.